I carabinieri forestali di Pesero Urbino hanno denunciato tre persone e sequestrato un terreno agricolo della superficie di 5 etteri nel comune di Tavuglia, in località Pian Mauro, dove erano in corso lavori di movimento terra in difformità però con il permesso di costruire rilasciato dal comune. In occasione di un controllo ambientale svolto dai militari è stato accertato che erano in corso consistenti lavori di riporto terra in un terreno agricolo poco lontano dal fiume Foglia. In particolare i carabinieri hanno contestato la presenza di rifiuti di vario tipo derivanti da una consistente attività di demolizione edilizia framisti a terreno vegetale. Le conseguenti indagini hanno consentito di accertare che il comune aveva autorizzato il riporto di solo terreno vegetale vergine compatibile con la sola pratica agricola. Si è configurata così una violazione del permesso di costruire nonché un'attività di gestione di rifiuti non autorizzata per i quali i militari hanno proceduto all'immediato sequestro preventivo sia dell'area interessata che delle macchine movimento terra. Contestualmente sono stati denunciati alla competente autorità giudiziaria il proprietario del terreno, il legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori e il direttore dei lavori. Sequestro preventivo poi convalidato dal GIP del Tribunale di Pesaro. Le attività di polizia giudiziaria sono state condotte in questo caso dai carabinieri forestali della stazione di Pesaro ed il sequestro del terreno è stato effettuato con la collaborazione della Polizia Municipale. L'attività svolta in questa occasione dai carabinieri forestali si inserisce nell'ambito di più vaste iniziative. Finalizzare a contrastare la piaga dello smaltimento irregolare dei rifiuti a tutela del palesaggio agrario e si aggiunge a varie analoghe operazioni condotte in questi ultimi mesi. In particolare proprio la stazione dei carabinieri forestali di Pesaro ha individuato diversi responsabili di numerosi abbandoni illegali di rifiuti in aree non autorezzate, contestando ai responsabili così le previste sanzioni pecuniarie sia amministrative che penali.